Sì, tra le altre cose, proprio parlando di... stavi accennando il fatto di film visti al cinema. Quello che emerge da questo libro è quanto la frequentazione delle sale cinematografiche abbia formato questi intellettuali, possiamo usare questa parola anche se sembrerebbe desueta, però nel senso positivo e non spergiativo, abbia formato questi intellettuali così come ha formato generazioni comunque di, mi ci metto anch'io, nostri coetanei. Pensi che oggi sia ancora possibile che il cinema, ma il cinema inteso come sala, come quel luogo dove sei solo e in compagnia, e quindi condividi ma nel buio, vista anche l'enormità dello schermo, assorbi in solitudine ciò che il film ti trasmette, pensi che sia possibile oggi, col cinema di oggi, con le sale di oggi, con gli stimoli di oggi che dei giovani, moltissimi di loro hanno parlato di film che hanno visto in età adolescenziale, se non infantile, che il cinema possa incidere così tanto nella formazione culturale di un giovane, di un intellettuale? Assolutamente sì. Sbaglieremo a pensare che con l'esperienza, diciamo, di visione di film al cinema, che fa parte di una generazione, diciamo, che è sopra i 40, sia possibile riprodurla oggi. Questa è sicuramente alle nostre spalle, per motivi, insomma, anche abbastanza banali. Noi, io per primo, sono di quelli che rimpiangono quell'esperienza lì, così come rimpiangono tante cose della propria giovinezza. Ma rimpiango anche, per dire, la dimensione del Cineforum, che ha consentito, in zone soprattutto periferiche, come la Sardegna, di poter vedere in alcune realtà urbane o semiurbane, grazie all'opera meritoria di Pazzi Furiosi, anche molte volte, ne cito uno più di tutti in campo regionale, non Pazzo Furioso, diciamo, una figura che aveva le sue stravaganze, ma era padre Guidubaldi, un gesuita che ha sicuramente contribuito in Sardegna nella diffusione di una cultura cinematografica. Ma anche, diciamo, gente più stravagante di lui è meno dotata probabilmente anche teoricamente, che ha lavorato nelle associazioni, l'associazionismo, insomma, c'è una storia importante. La cosa che sicuramente non c'è oggi, al di là della modifica della sala, eccetera, della sberla di immagini che siamo costretti a vedere ogni giorno da tutte le parti, è che non c'è più quella figura chiave che ti metteva in contatto con l'opera. Questo non era soltanto, appunto, chi teneva il Cineforum di turno, ma era banalmente, ad esempio, in televisione, gente come Claudio Giffava o altri critici cinematografici, Gianluigi Rondi, eccetera, che sicuramente fra gli anni Sessanta, gli anni Settanta e una piccola parte degli anni Ottanta facevano dei cicli cinematografici introducendo il film e quindi creando un gusto. Il problema vero è che oggi è molto complicato riuscire a creare un gusto cinematografico, però questo non è molto diverso da creare un gusto letterario, creare un gusto per le arti visive, eccetera. Allora, diciamo, queste figure che ti mettono in relazione con l'opera, oggi hanno più difficoltà a operare, per tanti motivi. Poi gli anni Ottanta, dico soltanto una cosa velocissima, diceva appunto, inizio anni Ottanta, succede una cosa in Italia, come in altri posti, che è la TV commerciale. La verità è che quella storia è finita contemporaneamente alle TV commerciali, questo è un dato di cronaca, voglio dire, e se non ci fosse stato Berlusconi ce ne sarebbe stato un altro che avrebbe fatto le TV private. Non è quello. Ma ad esempio il paradosso è che Maria Giacobbe e Marcello Fois, che sono separati da una generazione secca, Marcello potrebbe essere figlio di Maria Giacobbe, in realtà hanno gli stessi ricordi, cioè in realtà, come si può dire, danno del luogo in cui vivono, dell'andare al cinema, esattamente lo stesso spaccato sociale, artistico, eccetera. Quelli che hanno cinque anni meno di me, cioè i 35-38 anni di oggi, non ce l'hanno più, perché fra i loro amici, quando erano ragazzini, parlavano di drive-in, non parlavano di cinema. Questa cosa è scattata, ahimè, anche essa negli anni 80. Non per demonizzare, ma diciamo che questo è accaduto. Per difendere un po', ma non voglio fare l'avvocato difensore, la televisione, in questo periodo, in questi anni, credo che l'unica televisione che abbia provato, perché ci sono anche critici importanti, a fare selezione di cinema sia Sky, perché ha fatto delle cose abbastanza, al di là poi, una televisione a pagamento, e quindi, insomma, è chiaro che deve avere un certo ritorno, però è una di quelle televisioni che sul cinema ha fondato il proprio avvenire, il proprio futuro, perché di cinema Sky se ne vede tanto. Poi se ne può vedere bello e brutto, però, insomma, questo si può vedere anche al cinema, bello e brutto. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Stavo sfogliando, Marcello Foise ha scelto La Sottile Linea Rossa, che non è un film famosissimo per chi non è amante del genere, perché si parla di un film sulla Seconda Guerra Mondiale. Anche abbastanza recente. Esatto, è un film, mi pare, del 98, La Battaglia di Guadalcanal, che poi ha deciso le sorti della guerra col Giappone, in quel caso. Mentre Flavio Soriga, non a caso ho scelto i due Foise, Soriga ha scelto Pulp Fission di Quentin Tarantino. Ti hanno sorpreso queste scelte? A me quella di Marcello Foise, sì. Sì, diciamo che forse quella di Soriga era più... E più, sì. Beh, ce l'aspettavamo... Diciamo che più adatta. Poi io lo prendo in giro, perché gli dico, mica tu sei di Utta, quindi a Utta ti veniva male vedere il cinema. Vabbè, andava a Cagliari a vedere... Andata a Cagliari a vedere quello... E gli è rimasto... Ma se avreste visto Giovanone a Coscialunga gli sarebbe rimasto... Uguale. In testa uguale, non scherzo ovviamente. Però ecco, Marcello racconta... Marcello nell'intervista racconta perché... E fa anche altri titoli della sua, diciamo, giovinezza qui a Nuoro e anche a Bologna di spettatore. E racconta quel film perché in realtà quel film è un affresco un po' inaspettato alla fine degli anni 90 di un autore, tra l'altro, poco prolifico. Un affresco, diciamo, su grandissimi temi. Un film, diciamo, recente che si misura con i grandi temi della vita, della morte, della paternità, del sacrificio, del sangue, eccetera. Quando sembra che ormai non ci si possa più misurare con questi temi. Quando sembra che questi temi non interessino più. Ma forse a qualcuno interessano. Però sembra difficile poter ancora, no, a viso aperto affrontare... È una cosa che fa tremare i polsi. Ecco, è come qualcuno che volesse riscrivere il liade oggi. Ecco, sarebbe a mal partito.